Sabato 10 ottobre torna l'iniziativa intitolata Il Bene, moltiplica il bene. Appuntamento in Piazza Puccini e in Via Fratelli Rosselli. Abbiamo pensato di fare per il terzo anno una cosa che devo dire ci piace molto. Abbiamo nel nostro territorio, Novare in particolare, un mucchio di associazioni che si occupano degli altri gratuitamente, con slancio. Il volontariato è qualcosa di assolutamente indispensabile nella nostra società in cui il pubblico ha sempre meno risorse e quindi necessariamente interviene di meno. Ci è sembrato giusto, una volta all'anno, presentare alla città queste associazioni, un po' per ringraziarle, per far vedere quello che hanno fatto, un po' per farle conoscere dalla gente, che ne conoscerà sicuramente qualcuna, ma non tutte, e a questo punto queste associazioni, spero, troveranno nuova simpatia, persone che hanno voglia di dare una mano anche loro. Per cui abbiamo visto che effettivamente serve proprio per coinvolgere sempre più persone in queste attività. La fondazione di queste associazioni alcune le ha beneficiate, altre no, perché non possiamo fare tutto, magari lo saranno in futuro, ma non è tanto chiedere un ringraziamento alla fondazione da parte di queste associazioni, in quanto noi riconoscere la loro attività e ringraziarle per quello che fanno, e dare una mano per farle conoscere meglio ai nuvaresi. Fondamentale è la collaborazione del CST, il Centro Servizi Territoriali. Per il nuovo Centro di Servizio per il Volontariato, che ha cambiato nome, ha cambiato veste, ha lavorato su due province, Novara e VCO, Centro Servizi per il Territorio Solidarietà e Sussidiarietà, un altro appuntamento, quindi la possibilità di presentare l'organismo sul territorio, e siamo di nuovo partner della fondazione su questa grande iniziativa, questa Kermesse che coinvolge il mondo del volontariato locale. Quasi 90 associazioni hanno aderito, noi abbiamo aiutato la fondazione a stimolare la partecipazione delle associazioni, raccogliendo le adesioni e facendo la collettore dell'interesse delle associazioni. È un'occasione molto importante per il volontariato, per potersi presentare, per far capire alla cittadinanza quanti operatori, quanti angeli custodi ha il nostro territorio, quante persone hanno voglia di fare del bene, e questa possibilità di presentarsi moltiplicherà il bene, perché coinvolgerà la cittadinanza nella partecipazione attiva e nell'essere responsabile nel fare volontariato. Quindi è una grande occasione per il mondo del no profit e del volontariato locale.